La professoressa Maria Rita Parsi, nota psicologa e scrittrice da sempre attente ai temi dell'infanzia, ci ricorda che il primo a parlare di pet therapy fu lo psichiatra Boris Levinson negli anni 50, impressionato dalla facilitazione terapeutica e nescatasi a seguito di un incontro assolutamente casuale tra il suo cane e un bambino autistico. Un evento fortuito, favorito dallo spazio distensivo, di intimità, di contatto, affettivo del gioco, che sollecitò al bambino ad esternare, per la prima volta, piaceri e felicità. La presenza di un pet è importante, oltre nei casi di malattie e patologie più gravi, anche nella crescita di un bambino. Accoglie un'amica a quattro zampi in famiglia è sicuramente un buon investimento per il futuro dei nostri figli. La stessa nostra identità culturale passa attraverso il confronto con l'arteità animale e una corretta relazione tra bambini e animali contribuisce alla formazione di un individuo adulto sano ed equilibrato. Non insegnare i bambini ad amare e rispettare i nostri fratelli più piccoli è una vera e propria lacuna educativa, di cui si è soliti sottostimare le conseguenze nella vita adulta, soprattutto nella capacità di relazionarsi con gli altri. Un animale può rappresentare nella vita affettiva, cognitiva e fantastica dei bambini un prezioso compagno di giochi, spiega la psicologa, che viene considerato parte integrante della famiglia anche a motivo della relazione esclusiva che si instaura. Come se dai genitori, infatti, i bambini possono sentirsi costantemente corretti, valutati, puniti o contraddetti, questo non accade invece nel rapporto con il loro animale.